Per la Banca Centrale Europea i tassi di interesse restano invariati, quanto emerge in margine al Consiglio Direttivo della BCE, che non cambia politica. La crescita globale è più debole, il commercio globale rallentato dal protezionismo, stanno ancora pesando sull'economia dell'eurozona, ha spiegato il Presidente della BCE Mario Draghi, soffermandosi sulla prolungata incertezza dovuta a fattori geopolitici. Su una domanda relativa a un rischio di recessione, visto che Draghi ha parlato anche di scarsa probabilità di rimbalzo dell'economia a file 2019, il banchiere ha detto che lo vede molto limitato, in molti settori ci sarebbero segnali di resilienza. Nel suo intervento Draghi lascia intendere che la BCE ridurrà ulteriormente il tasso sui depositi, questo per dissuadere le banche dal parcheggiare denaro contante e stimolare invece a prestarlo e investirlo. L'obiettivo primario della politica monetaria europea è di mantenere la stabilità dei prezzi, puntando al contenimento dell'inflazione con valori prossimi al 2%. In giugno l'inflazione dell'eurozona era l'1.3% e appena un po' più bassa in maggio. Insomma la politica della BCE non si basa sulla crescita del PIL. I dati economici in entrata e le informazioni dell'analisi mostrano una crescita leggermente più lenta nel secondo e terzo trimestre di quest'anno. Ciò riflette principalmente la debolezza in atto nel commercio internazionale in un contesto di prolungate incertezze globali che stanno colpendo in particolare il settore manufatturiero dell'area euro. Draghi conclude il mandato al vertice della BCE in ottobre ma ha chiarito quello che non farà, cioè il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale ed esclude questa sorta di scambio con Christine Lagarde che dal 1 novembre guiderà la BCE.